Il 17 febbreo del 1971 nasceva negli Stati Uniti Dennis Richards e nella scena che staremo per vedere tratta dal film Sex Crimes a proposito di questo film, un thriller ricco di colpi di scena consiglio di vederlo dicevo, nella scena che staremo per vedere la vedremo in compagnia di una sua collega Nev Campbell in una scena, a dir poco sensuale Hai solo tanta paura, vero? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!